per giorgiana sebbene sarà bene sarà se male sarà male sarà sebbene sarà la carta si illuminerà se male sarà la carta si riscurirà della sorte del destino di giorgiana si aprirà ragazzi denel mondo lo tengo in cuffia direi che qual viaggia strale potrebbe essere veramente interessante giorgiana al mazzo delle carte mi è uscita questa carta ok la vedi questa carta ok si fa vedere che tu sei una persona che una persona molto positiva però che sorridi molto ma molte volte anche tu c'è i tuoi problemi interiori c'è i tuoi pro interiori che non vuoi fare vedere tu vuoi sempre farti vedere potente puoi sempre farti vedere dura ma molte volte non riesce a scoprirti sei ancora una bambina dentro di te sei ancora una ragazzina però molte volte ti stai mascheri la tua persona e qua ace non soffia devo dirti che le carte che mi sono uscite non sono uscite molte positive perché mi sono uscite tutte rovesciate nooo cazzolidio la distrutta ti sei proprio ti proporai delle cose nel tuo futuro però queste cose non andranno come ti ho sentito dico ti proporai delle cose nel tuo futuro nella tua carriera nella nella tua voce artistica interiore però queste cose ti andranno a rovescio bene grazie per il beat cazzo cazzo povera le diona grazie franzo vorrai avere delle benedizioni vorrai avere delle benedizioni dai tuoi parenti dai tuoi genitori in quello che vuoi fare in quello che non vuoi fare ma loro non sono molto contenti molte volte tu non hai la loro benedizione in molte cose infatti qua mi fa vedere che avrai dei litigi con delle persone ma anche una lotta interiore con te stessa ok nel tuo futuro cazzolidio distrutta mi fa vedere che ti sentirai anche un po' stanca ti sentirai un po' stanca vorrai della pace per te vorrai fare una vacanza un viaggio per rilassarti per sentirti un po' liberata anche dai pensieri ma anche fisicamente io vi giuro voglio far fare le viste a strada della mondo vi giuro lo voglio fare come ti dicevo prima vuoi sentirti rilassata vuoi sentirti in pace ma ti servirà anche un po' di di detox nel tuo corpo dovrai fare una dieta per non avere dei problemi di salute perché qua mi fanno vedere i dottori mi è uscita la carta dei dottori ti consiglio di farti dei controlli delle analisi del sangue per vedere come va la tua salute ok aspetta sono malata? no non sei malata ma mi è uscita una carta che dovrai andare a farti delle analisi di salute